Ragazzi siamo giunti al termine di questo viaggio, iniziato proprio un annetto fa alla fine E sono qui non per parlarvi dei soliti rumor, leak, ormai questo non lo potremo più fare Non più con Spider-Man 9 Home almeno E niente, volevo semplicemente ringraziarvi per avermi fatto compagnia in questo anno Nella scoperta di leak e rumor Nessuno si sarebbe mai aspettato una roba del genere Nessuno si sarebbe aspettato che Spider-Man 9 Home potesse unire tre generazioni di Spider-Man Alcuni rumor, alcuni leak sono rivelati veri, altri falsi Abbiamo aspettato il primo trailer tantissime volte Abbiamo aspettato varie date, mi ricordo che da giugno, il primo, il 10, il 20 luglio Insomma, ne abbiamo lette tante, ne abbiamo discusso insieme E sicuramente continueremo a farlo Sia per noi Home sia per tutti i prossimi progetti di Spider-Man o Marvel che arriveranno in futuro Chiedo poi gentilmente a tutti di non fare spoiler Anche se comunque ragazzi vi consiglio di non leggere nei commenti che ci saranno nei video Sia mie che di qualsiasi altro canale Nei commenti di qualsiasi altro social C'è chi sicuramente riuscirà a vedere il film domani E c'è chi dovrà aspettare qualche giorno in più Quindi un po' di solidarietà per tutti Visto che abbiamo aspettato questo film con tanta ansia Visto che vogliamo andare al cinema e scoprire con i nostri occhi tutto quello che c'è da scoprire Nonostante sì, ormai i leak e vari rumor sono alla fine molto confermati Però ci sta andare al cinema avendo ancora quello 0,001% di possibilità che qualcosa non vada come previsto Quindi ragazzi grazie, è stato figo, è stato molto divertente Ma ovviamente non finisce qua Ci sarà ancora tanto da dire su Spider-Man 9 Home Ma quando uscirà vediamo un po' questo film di Spider-Man Quanto è figo, quanto è bello E piccola curiosità che ho visto questa mattina I voti per questo film sembrano essere veramente molto molto alti Quindi vi alzo ancora un altro po' l'hype Iscrivetevi al canale, seguite Twitch e tutti gli altri social che trovi in descrizione L'avventura di Spider-Man 9 Home finisce qui Ma ne vivremo tante altre Quindi vi saluto e alla prossima avventura Ciao a tutti Ehi, lo sai che con il link in descrizione trovi gadget di qualsiasi tipo Magliette, tazze, di tutto e di più A tema Marvel, quindi Spider-Man, Iron Man Ma ce n'è per tutti i gusti Trovi anche anime, stv E con il codice jacksard hai anche un piccolo sconto Link in descrizione per fare il tuo acquisto Ciao a tutti